Il numero giornaliero di decessi sembra proprio aver raggiunto il massimo e comincia a decrescere, quindi questa è la cosa importante, vuol dire che le varianti che possono portare con una certa probabilità all'ospedalizzazione, terapia intensiva e al decesso, stanno perdendo forza. La famosa delta che ci siamo lasciati alle spalle a Natale e che evidentemente ha perso forza grazie probabilmente alla grande intensità dell'azione di vaccinazione, terze dosi che state appena ricordate e quindi l'effetto complessivo con un tempo che ha richiesto alcune settimane perché i decessi sono l'ultima variabile che incomincia a decrescere, sta incominciando a mostrare una netta inversione di tendenza. Tutto questo mentre gli infetti, i milioni di infetti attivi che abbiamo accumulato a causa dell'omicron in questo caso, hanno raggiunto il massimo, il picco circa 10 giorni fa e stanno decisamente decrescendo. Anche lì bisogna stare un attimo attenti perché il numero di nuovi infetti giornaliero è 100, 110, 120 mila, ma contemporaneamente ne vengono rilasciati dalle quarantene 150, 200, 250 mila e complessivamente finalmente questo numero che abbiamo portato fino a 2,7 milioni, 2 milioni e 700 mila persone sta ormai scendendo rapidamente a 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 4 e via via a discendere con una velocità piuttosto rapida. Se uno ha mantenuto negli scorsi mesi una certa modalità nel contare i decessi, quindi magari con una combinazione tra decessi dovuti al Covid e decessi accompagnati dal Covid, la grande polemica è questa, ma se è rimasto lo stesso metodo e meccanismo di conteggio e lo vediamo crescere da novembre fino a gennaio, ma poi iniziare a rallentare e a decrescere da febbraio in poi vuol dire che qualcosa sta cambiando nel meccanismo epidemico, quindi anche i certi effetti che possiamo chiamare sistematici, che ci siamo portati dietro sul metodo con cui contiamo, nel momento in cui incominciano a cambiare ci stanno comunque raccontando che la delta ha perso molto forza.